Ho cominciato per gioco perché la mamma mi aveva iscritto ad un torneo under 14 e da lì mi sono classificata a quarta e da lì è nata tutta la mia passione per le frecciette. Le frecciette sono di casa perché mio papà ha cominciato a giocare quando sono nata quindi è uno sport che praticamente pratica da 16 anni. Ho sempre preso le frecciette in mano per gioco così giusto per magari fare due frecce con papà però poi questo gioco è diventato una passione. La parte più bella delle frecciette secondo me è l'insieme dalle persone all'adrenalina che provi in pedana a tutto è proprio un bell'ambiente, qualcosa che comunque ti mette allegria, ti mette felicità, ti mette, ti dà forte emozioni mettiamola così. Dopo l'europeo è successo che con papà ho deciso diciamo di intraprendere questo sport e abbiamo fatto l'anno dopo se non sbaglio abbiamo fatto altre gare sempre all'europeo arrivando tredicesimi nel doppio misto e poi abbiamo cominciato ad allenarci bene, io ho cominciato a giocare a soft quindi con le punte in plastica, ho cominciato a giocare in C, mi sono iscritta con questa squadra di serie C che erano le One Piece e ho cominciato a giocare sempre di più. Sono salita di categoria e quindi sono passata dalla C alla B, poi sono arrivata in A e sono riuscita a vincere il primo campionato italiano e poi io ho cominciato sempre di più ad appassionarmi riuscendo ad avvicinarmi anche allo sport, allo sport, cioè allo steel, quindi alle punte in ferro e vincendo quest'anno a settembre l'italiano. Dall'italiano poi siamo volati a Malta per fare l'europeo di steel dove mi sono classificata seconda e da lì poi grazie alla DART Academy, alla Junior DART Academy che è un'associazione dove incentivano i giovani a giocare, sono andata a Givilterra e ho partecipato al mondiale JDC e sono arrivata terza. Galleggio soprattutto all'estero per un motivo ed è quello di riuscire a classificarmi per il mondiale che esiterà quest'anno. Io sono una studentessa del Polo Sarpio a San Vito e solitamente mi alleno una volta al giorno per un'ora e diciamo che l'alternanza scuola freccette non mi pesa, l'unica cosa che mi pesa magari è quando vado a fare gare e ho tutto lo stress addosso più che altro della pedana e del cercare di fare bene. Lo gestisco cercando di isolarmi dal mondo esterno e soprattutto mettendo le cuffiette isolandomi con la musica o cercando di divertirmi il più possibile così da non sentire la pressione. Lo sport delle freccette in Italia è considerato lo sport degli ubriaconi ma diciamo che questo pregiudizio non deve pregiudicare appunto lo sport perché almeno personalmente io mi diverto come una matta. Punto soprattutto a diventare una professionista perché mi affascina questo mondo e vorrei dare tutto ciò che ho per questo sport. Ho già uno sport sport tecnico che è quello della Wimau. Ti offre un contratto triennale dove ti aiuta a crescere, dove ti aiuta a fare anche esperienze e ti fa partecipare a dei tornei importanti apposta per farti crescere, per confrontarti con altri ragazzi che sono a un livello molto più alto del tuo. Si parte da 501 e si tirano le frecce sul bersaglio. Il bersaglio è diviso a spicchi che all'interno hanno dei rettangolini, mettiamoli così. E c'è ovviamente il centro. Lo spicchio è diviso in tre parti, quindi è diviso per il doppio che vale per due, quindi vale il numero in questo caso il 20 per due, il singolo che è la parte più grande e il triplo dove il numero praticamente vale per tre. Il bull che è il centro e quello verde vale 25 che è quello esterno. che solitamente si usa per i raccordi. Mentre quello interno è una doppia e vale 50. L'obiettivo è partire da 501 e arrivare a 0 prima del tuo avversario. Dipende dalla categoria, quindi A, B o C. E in questo caso, cioè, dalla categoria, diciamo, hai delle chiusure da seguire. Per esempio, in A puoi chiudere solo con i doppi, quindi solo con questa fascia qua e col bull. In C, invece, se resti a 20 puoi tirare qua, mentre in A se resti a 20 devi tirare per forza il 10 doppio. Per esempio, io tiro sempre al 20, perché se prendi magari tre triple fai 180, che è il massimo dei punti che puoi fare, mentre se tira il 19 il massimo dei punti che puoi fare è 171. Quindi, io personalmente sfrutto soprattutto il 20 e il 19 come, diciamo, scarico del braccio, quindi come rilassamento. E poi, ovviamente, cioè, si usa tutto il tabellone anche per i raccordi, per riuscire a restare con i numeri più, più facili, diciamo, più, meno complicati da chiudere, ecco. Il mio papà mi ha insegnato come si sta in pedana, quindi il buon comportamento contro, no, non contro, ma riguardo all'avversario, quindi come comportarsi, come non comportarsi. E mi ha insegnato tutto, dalla posizione al come tirare senza farmi male, a tutto. Deve esserci sempre un rispetto quando giochi contro qualcuno, perché è il tuo avversario per i 10 minuti della partita. Poi è un amico, cioè, è qualcuno che può diventare un tuo amico, è qualcuno che può diventare comunque una persona importante, ecco. Quindi, diciamo, bisogna sempre mantenere quel rispetto in pedana verso l'avversario. L'avversario può anche non averlo verso di te, ma tu devi fargli vedere che comunque rispetti quello, come gioca lui e come fa lui le cose, ecco. L'avversario può anche non averlo verso di te, ma non averlo verso di te, ma non averlo verso di te, ma non averlo verso di te.